L'Italian Eddie Lamara. Eddie, una battaglia fantastica con Sylvain. Un grande ruolo verso l'inizio della gara. E prende la vittoria sulle linee, a meno di un cento di seconda. Devi essere molto felice di oggi. Sì, è stata una gara molto, molto combattuta. Sono contento del risultato. È incredibile, la gara è stata veramente... Non si sapeva chi vinceva fino all'ultimo metro. Poi è andata bene, insomma. Abbiamo lavorato bene fin dall'inizio del weekend. E niente, sono molto contento. Ringrazio i miei sponsor, la Nolan. Tutti i miei sponsor che hanno reso possibile. E il team Barney. In summary, Eddie Lamara ha detto che è stata una gara difficile. Abbiamo lavorato molto. È un'ottima vittoria per lui e la squadra, che tutti hanno lavorato bene questo weekend. E alla fine, solo grazie al suo team e ai sponsor. Grazie, Eddie. Grazie. 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 Grazie.